All'Aquila oggi più di 200 studenti coinvolti nell'iniziativa del Corecom sui rischi della rete. Il Comitato regionale per le comunicazioni ha promosso all'emiciclo un importante appuntamento che ha l'obiettivo di mettere in guardia con gli esperti i ragazzi dai pericoli della rete. Il titolo dell'iniziativa è Futuro Hub e coinvolge famiglie e scuole. Corecom è un'autorità indipendente regionale tra le prime ad avere funzioni in materia di tutela al bullismo e al serbobullismo. Oggi parleremo direttamente con i ragazzi, ne abbiamo 200 in presenza e ne avremo tantissimi altri collegati in diretta Facebook. Apriamo oggi un ciclo di incontri idoneo a concretizzare la stipula di un protocollo di intesa. Il primo a livello regionale che coinvolge così tanti attori ed attrici, ci saremo noi, ci sarà la Garante per l'infanzia, ci saranno le università, ci sarà l'ufficio scolastico regionale e ci sarà anche ovviamente la Polizia Postale proprio a tutela di queste insidie che oggi più di ieri sono sempre dietro l'angolo e minacciano la salute e l'età giovanissima di questi ragazzi. La Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Faliveni, ha spiegato la bontà dell'appuntamento. Tre eventi in programma e il primo appunto all'Aquila. Alla scuola ai genitori un compito fondamentale, oggi i pericoli sono davvero tanti. La maggior parte dei ragazzi usa il cellulare già a 10-11 anni. Non va agevolato però l'ingresso nel virtuale per la Garante quando ancora non hanno gli strumenti per comprendere. Molti giovani hanno patologie dovute proprio all'uso senza freni di internet. Con l'iniziativa si dà vita di una buona comunicazione che ha per protagonisti ragazzi. Presto saranno avviati dei momenti di confronto anche con i genitori perché è necessario che loro per primi comprendano l'entità dei pericoli. Noi adulti abbiamo acquisito la consapevolezza delle insidie che vi sono sulla rete. Vi è stata una prima pronuncia da parte del Tribunale in Inghilterra sulla sentenza Russell in cui hanno evidenziato che vi è una interconnessione tra le problematiche dei ragazzi tutti e anche per quello che sono proprio le malattie psicologiche ma anche quelle che incidono sull'anoressia, sui suicidi. Il caso è proprio di una ragazzina che è stata indotta al suicidio da un algoritmo perché è vero che le piatteforme individuano i nostri ragazzi attraverso un algoritmo.